Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo video di Fortnite Come potete vedere dall'immagine sotto di me Che tra poco vi faccio vedere meglio Perché c'è la mia cam che copre tutto C'è una nuova coppa Coppa Venom ragazzi Ma c'è più di una semplice coppa Venom Per le semplici persone che gli piacciono fare Questo tipo di coppe per ottenere la skin È una semplice coppa Venom Ma c'è soprattutto un qualcosa in più Una super coppa da un milione Di dollari ragazzi Ok? Un milione di dollari che si svolgeranno E ovviamente in tornei E che potete giocare in teoria tutti Dopo ci andiamo a leggere appunto anche l'altro regolamento Ora vi faccio vedere appunto l'immagine senza la cam Guardate che bellezza di skin Che sarà Venom Sperando che domani io lo vinca E fatemi sapere ovviamente sotto nei commenti Se parteciperete Andiamo subito a vedere il regolamento In primis per vincere la skin E poi di questo milioncino di euro in tornei Andiamo Allora ed eccoci qua per il regolamento Ovviamente quello ufficiale per la skin Coppa Venom Che sarà a coppie raga Ve lo dico già in primis La roba del punteggio è sempre la stessa 25 punti 10 punti 5 punti 3 punti Per primo 25esimo Primo posto Secondo posto Terzo e quarto posto Quinto e ottavo posto Nono e sedicesimo posto Poi i premi ovviamente Coppa Venom Coppie Il premio in Europa Sarà da top 1 a top 1200 Che saranno appunto Il dorso decorativo E la skin Ovviamente Oggetti estetici Costume dorso decorativo E emote Addirittura Piccone di Venom Oddio non la sapevo questa cosa ragazzi La sto leggendo ora con voi Cioè vi danno La skin Il dorso decorativo Le emote di Venom E anche il piccone Bellissimo ragazzi Bellissimo Top 1 a 1200 Io questo È l'unico torneo Marvel Che voglio giocare Che giocherò domani in live Infatti vi aspetto Dalle ore 6 Alle 9 raga Perché sicuramente Sarà alle 6 di sera In tal caso Che non sarà Quell'ora raga Vi scriverò Nella descrizione del video Un ulteriore aggiornamento Quindi guardate Anche la descrizione del video Passiamo avanti Eccomi qua Per la super competizione Ragazzi Da appunto Un milione di dollari Ed è la coppa Venom Del 18 novembre Già ve l'ho parlato In questa di domani Poi c'è anche appunto La super coppa Da un milione di dollari A coppia Il 21 novembre Ok Il 21 novembre Il mitico viaggio Viaggio della super competizione Marvel culminerà In un duello Definitivo La super coppa Da un milione di dollari I giocatori doni E pronti alla sfida Dovranno ricorrere A tutte le abilità Prese e gareggiando Nella coppa Con account Marvel Quindi sarà un torneo Da un milione di dollari Raga in Marvel Quindi ragazzi Praticamente Leggete qui con me Cioè leggiamo insieme I giocatori potranno Contare su nuovi poteri Ma riceveranno Solo 20 di materiale Per ogni eliminazione Inoltre i materiali Da ricostruzione Saranno limitati Ad un massimo Di 200 unità Per materiale Perciò usali Sapientemente Oh mio dio raga Una cosa pazzesca Inizio della trasmissione Della copertura Sarà alle 7 ore italiana Quindi Il 21 alle 7 di sera Raga E vabbè Naest non ci interessa Come entrare in gara La scheda competi Nella lobby del gioco Seleziona la coppa Venom Oppure la supercoppa E trova l'orario Di inizio Ovviamente La nostra regione Dopo che il rispettivo Evento sarà iniziato La sua playlist Sarà accessibile Nel menu playlist Ed eccomi qua Ritornato con il mio bel faccino Ragazzi Quindi praticamente Da quanto ho capito Anche la supercoppa Sarà appunto Giocabile In Battle Royale Si dividerà Forse da quanto ho capito O in Solo con account Fatemi sapere sotto nei commenti Raga Voi cosa ci avete capito Perché non ci ho capito Una ceppa Della supercoppa Non mi interessa Sinceramente Perché non la farò A me interessa solo Della skin Tanto sicuramente La supercoppa Come sono fortunato io Come sono scarso io Soprattutto Non la vincerò mai Invece la skin Questa qua Bellissima Ci proveremo Assolutamente Fatemi sapere Se anche voi Ci proverete Ragazzi Io voglio vincerla A tutti i costi Perché è favolosa Cavolo Favolosa Guardate quanto è bello Venom Bellissima Quindi che dirvi Come sempre Se vi sono stato d'aiuto Se vi ho portato Le belle news Belle sapienti E che vi interessavano Lasciate un mega like Quindi iscrivetevi al canale Soprattutto Attivando la campanellina Noi ci vediamo In un prossimo video E soprattutto Dovete domani in live Dalle 6 alle 10 Ciao belli